Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio, apriamo questa edizione con una buona notizia. Inaugurato oggi il secondo e ultimo stralcio del bacino di laminazione di Caldonio in provincia di Vicenza, lungo il Timonchio, il bacino è stato realizzato su una superficie di 110 ettari. Le imprese incaricate all'esecuzione sono state 12, 8 i subappaltatori e 45 i prestatori d'opera. Opera iniziata nel 2014 e in due anni è stata completata con un intervento di 40 milioni di euro. Dal 2010 in poi sono stati avviati 925 cantieri per un importo di 911 milioni di euro nonostante la scarsità di risorse disponibili. Questa è un'opera simbolo, ha detto il presidente della Regione Veneto, un'opera capace di mettere in sicurezza non solo il Vicentino ma anche le altre province del Veneto. In questi giorni il questore di Padova ha disposto numerosi controlli in città in seguito a furti in appartamento, furti che sono avvenuti in particolare negli ultimi giorni e i poliziotti durante questi controlli hanno trovato due nomadi che camminavano per il centro della città con numerosa refurtiva. Dopo alcuni episodi di furti in appartamento accaduti nei giorni scorsi nel centro storico di Padova, la questura ha implementato i servizi di prevenzione a contrasto della microcriminalità sull'intero territorio cittadino, come da direttive impartite dal questore Gianfranco Bernabei. Grazie all'intensificazione dei controlli attuati ieri pomeriggio, gli agenti della sezione della squadra volanti hanno bloccato due giovani nomade, notate mentre tentavano di entrare nel portoncino di una palazzina nella strada pedonale di via Santa Lucia. Alla vista della polizia una delle due ragazze si è rifugiata all'interno della sacristia della vicina chiesa, mentre l'altra si è allontanata in direzione opposta. Prontamente bloccate dagli agenti, le due nomadi sono state trovate in possesso di oggetti atti allo scasso, comprese schede di plastica utilizzate per aprire furtivamente le porte e di una borsa contenente bicchieri e ampolle di cristallo avvolti in calzini del tipo fantasmini per proteggerle da eventuali rotture, recuperati anche diversi gioielli in oro e argento. Le due giovani, entrambe 19 anni pluri pregiudicate ed una anche in stato interessante, sono state accompagnate in questura e al termine degli atti di rito denunciate a piede libero per ricettazione e porta abusivo di arnesi, atto allo scasso. Una delle due è stata anche denunciata per evasione poiché aveva in atto la misura degli arresti domiciliari. Sono in corso indagini per risalire ai legittimi proprietari della refurtiva, probabilmente sottratta a loro insaputa durante una momentanea assenza da casa. Gomitoli di falsa lana venduti come prodotti di qualità, in realtà erano filati di acrilico. Importante operazione della Guardia di Finanza di Padova a tutela degli utenti e dei commercianti onesti. Allora sentite i dettagli di questa operazione. Sono stati sequestrati a Padova circa mezzo milione di gomitoli di filato acrilico venduti come lana. È l'esito di un'operazione delle fiamme gialle partita dal controllo all'interno di un negozietto cinese della provincia. I militari si sono accorti che nel filato c'era qualcosa che non andava e sono scattate indagini mirate a individuare il fornitore. Il materiale venduto come gomitoli di lana in realtà era al 100% acrilico e veniva importato in Italia da un altro soggetto cinese con azienda a Monselice. Con un decreto emesso dal GIP presso il locale tribunale, a seguito di richiesta della Procura della Repubblica Patavina, i baschi verdi hanno sequestrato ben 487 mila gomitoli di filato acrilico, recanti un'etichettatura atta ad indurre in inganno il compratore. I due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di vendita dei prodotti industriali con segni mendaci, entrambi di origine cinese. I due adesso rischiano fino a due anni di reclusione. L'attività descritta ha consentito di tutelare non solo la fede pubblica del consumatore finale garantendogli di acquistare il prodotto per cui sta pagando, ma anche gli imprenditori onesti che commercializzano i loro prodotti nel rispetto delle regole. Il giudice istruttore del Tribunale di Amposta vicino a Terragona ha deciso di archiviare la causa penale aperta dopo l'incidente del bus Erasmus, costato la vita in marzo a 13 studentesse tra cui 7 italiane in Catalogna. Nella decisione di archiviazione contro la quale può essere presentato comunque ricorso. Il giudice ha escluso, riferisce l'Agenzia Spagnola F, che l'incidente sia stato dovuto a problemi meccanici o alla guida imprudente dell'autista e quindi ha rinviato le parti al procedimento civile. Sette persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nel Vicentino nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza contro il traffico di stupefacenti nel capoluogo berico. I sette sono coinvolti in un'azione contro lo spaccio di cocaina, eroina e hashish. Il titolare di un negozio di telefonia è stato denunciato addirittura perché avrebbe fornito agli spacciatori schede intestate a persone assolutamente estrane o inesistenti. E allora rimaniamo su questo argomento e cerchiamo di capire di più nel dettaglio l'operazione della Guardia di Finanza. I finanzieri del nucleo di pulizia tributaria di Vicenza, con l'ausilio di unità cinofile del locale comando provinciale, hanno eseguito sette misure cautelari personali disposte dal GIP di Vicenza, di cui sei in carcere e una ai domiciliari. Gli arrestati devono rispondere di circa 900 episodi di spaccio per un totale di oltre 4200 grammi tra cocaina, eroina e hashish venduta, pari a un volume d'affari di oltre 300 mila euro. La vendita della droga era attiva nella città di Vicenza. Le fiamme gialle hanno eseguito 14 perquisizioni locali e personali nei confronti degli arrestati e delle loro rispettive abitazioni. È stato inoltre perquisito un negozio di telefonia nel centro storico di Vicenza, il cui titolare è stato denunciato per favoreggiamento con l'accusa di aver rifornito all'organizzazione criminale di numerose schede telefoniche intestate a soggetti inconsapevoli o addirittura a persone inesistenti per evitare la riconducibilità delle stesse ai reali utilizzatori. Le indagini sono scattate un anno fa e hanno avuto anche un risvolto tragico. Durante un controllo uno dei fermati aveva ingerito la cocaina che stava trasportando, rimanendo ucciso all'istante. La successiva perquisizione permise di rinvenire all'interno dell'autovettura il restante contenuto del sacchetto quantificato in 35 grammi di cocaina in sasso. Successivi approfondimenti investigativi portarono all'individuazione del fornitore del tunisino deceduto identificato del parrucchino HR di anni 39, arrestato in provincia di Brescia dai finanzieri vicentini qualche settimana più tardi e trovato in quella circostanza in possesso di circa 30 grammi di cocaina. Nel corso dell'intera indagine sono stati denunciati anche due italiani, clienti dell'organizzazione criminale dalla quale si rifornivano a loro volta. I destinatari della odierna ordinanza di custodia cautelare sono soggetti per lo più stranieri, irregolari in Italia che vivono esclusivamente dei proventi di attività illecite ed alcuni degli stessi sono da considerarsi socialmente pericolosi in quanto gravati da importanti precedenti di polizia per risse, accoltellamenti e altri reati contro la persona. La complessa indagine condotta dai militari delle Fiamme Gialle di Vicenza ha messo in luce per l'ennesima volta l'esistenza di un nutrito numero di soggetti nordafricani privi di permessi di soggiorno che hanno intessuto un fiorente commercio di droga nella zona centrale del capoluogo berico. Ritorniamo ancora a Padova, parliamo ancora di sicurezza. Come avete sentito nell'apertura del telegiornale sono aumentati in controlli in città a seguito dei numerosi furti e durante queste attività di controllo del territorio è stato arrestato un uomo di 42 anni di Conselve della provincia di Padova che è stato pizzicato mentre tentava di aprire il basculante di un garage in un condominio nel quartiere Guizza. L'uomo pregiudicato e tossicodipendente era in tento nella sua azione con un piede di porco e una mazza da carpentiere. È stato arrestato per tentato furto. Padova ancora allarme per una busta sospetta arrivata nella sede di Equitalia. Nella sede padovana di Equitalia è allarme per una busta sospetta che ha fatto scattare il piano sicurezza. Nella sede di Via Longhina è stata rinvenuta una busta sospetta. Sul posto sono giunti i carabinieri, vigili del fuoco con esperti del nucleo biologico, chimico e radiologico. La stanza dove era presente la busta è stata chiusa e sono scattati i controlli seguendo le procedure particolari richieste in questi casi. Nessuna persona è stata sottoposta ad accertamenti medici in quanto la situazione si è risolta senza alcuna conseguenza e dopo le verifiche l'allarme è rientrato. Episodi simili nella sede padovana si sono già verificati in molteplici occasioni. La giunta veneta ricorderà la ricercatrice veneziana Valeria Solesin, unica vittima italiana nell'attentato terroristico al Bataclan di Parigi del 13 novembre dello scorso anno. La ricorderà con un aiuto concreto al centro sanitario per le nascite di Emergency, centro che lei è stato intitolato in Afghanistan. Ad annunciarlo è stato il presidente Luca Zaia che ha incontrato anche i genitori di Valeria e gli ha confermato la volontà di ricordarla attraverso un gesto concreto coerente con il suo spirito, il suo impegno sociale e il suo desiderio di promuovere le donne e la maternità. Sono stati i genitori di Valeria Solesin a suggerire come contribuire. Ricordiamo la struttura di Emergency si trova sulle montagne dell'Afghanistan. Venezia ancora, ma cambiamo completamente argomento, sotto 55 mila residenti cortei nei prossimi giorni nella città lagunare. Allora cerchiamo di capire cosa è previsto e perché. Sono scesi sotto quota 55 mila i residenti a Venezia e sabato prossimo il centro storico lagunare sarà percorso da una manifestazione a difesa del diritto di vivere in città dal significativo titolo Venexodus. Togliamo il disturbo? L'iniziativa, a distanza di sette anni da quella che aveva portato all'attenzione del mondo la moria di residenti scesi all'epoca a 60 mila, è stata organizzata dal social forum venessia.com e ha avuto l'adesione di una quindicina di associazioni e realtà cittadine. Secondo i promotori, il traguardo del 55 mila è stato raggiunto il 7 novembre. 54 mila 927 per la precisione i dati rilevati da venessia.com sulla base dell'anagrafe del Comune di Venezia. La manifestazione, che sarà preceduta giovedì da un'assemblea in campo San Leonardo e da due eventi a sorpresa, è stata presentata da Matteo Secchi e dai rappresentanti delle associazioni in una conferenza stampa. Ed ora uno sguardo alla situazione climatica. L'Europa settentrionale è interessata da una circolazione ciclonica caratterizzata da diversi impulsi perturbati associati ad aria fredda che interesseranno l'Italia centro-settentrionale fino a venerdì. Sabato temporaneo aumento della pressione, mentre domenica la regione sarà influenzata da correnti occidentali più umide. In Veneto il tempo sarà inizialmente variabile, con nuvolosità irregolare e qualche pioggia. Sabato tempo più stabile e soleggiato, mentre domenica la variabilità sarà abbastanza modesta. È tutto per questa edizione, rimanete con noi, tra poco lo spazio con Obiettivo Città. Vi auguro una buona serata. Ben trovati, siamo qui a presentare la settima edizione della Corri per Padova. L'allenamento collettivo organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con la Polizia di Stato e le Fiamme Oro che propongono i vari percorsi ogni giovedì. Sarà un evento molto sentito da tanti poedisti, runner e camminatori. Infatti abbiamo avuto anche tante richieste di iniziare anche prima questa manifestazione. Ne saranno 25 uscite, ogni giovedì sera alle 20.30. La prima uscita sarà partenza a Prato della Valle e vedrà appunto per un percorso diverso ogni settimana. È un invito questo a tante persone a lasciare il divano di casa e venire a correre e anche a tanti che magari affrontano la giornata lavorativa e poi si sdraiano appunto a casa. Ma è un invito appunto a fare sport, a fare attività fisica perché sappiamo tutti ormai che lo sport fa bene. È una lotta anche a tutti i problemi sia di obesità che diabetici che di cardiologici che ormai sono all'ordine del giorno. È un aiuto anche alla nostra sanità come contributo ad avere meno spese sanitarie. Invito tutti, lo farò anch'io, a venire giovedì sera a questa prima partenza della Corri per Padova. Ci vedremo tutti in Prato della Valle. Le iscrizioni le potete trovare nel sito Padova.net. Basta compilare il modulo di iscrizione e poi andare in tutti i siti per il pagamento, ma anche lo potete fare in on-banking. Vi invito tutti, ci vediamo giovedì alle 20.30 in Prato della Valle. Sarà anche un'occasione ogni settimana di conoscere varie on-lus e sensibilizzare anche a varie giornate mondiali di prevenzione e quant'altro. Infatti quella di giovedì 10 sarà destinata alla lotta e prevenzione al diabete e ad esempio anche il primo dicembre sarà un'altra serata molto importante in cui vedremo la sensibilizzazione alla malattia dell'AIDS. Pertanto vi invito tutti nuovamente, tutti alla Corri per Padova, venite a fare sport, fa bene alla salute, fa bene alla mente, al fisico e tutti a camminare e a correre alla Corri per Padova. Grazie a tutti.